Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV. Alzi la mano, chi si aspettava un riscatto del genere da parte dell'Alma Juventus Fano, che veniva da un periodo troppo lungo, senza vittorie, che contro i Lachieti ha suoderato prima di tutto una prestazione di tutto rilievo e ottenuto un risultato anche eclatante, che fa specie, soprattutto se rapportato a quello che era successo appena quattro giorni prima, quando Almancini era passato, e anche con una certa disinvoltura, il notaresco. Della partita con il Chieti, di questa sua avventura in granata che è appena cominciata e dell'impegno che incombe, quello sul campo del Piedimonte Matese, parleremo con il nuovo allenatore dell'Alma Juventus Fano, Manolo Manoni, buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, abbiamo detto, vittoria in attesa di queste dimensioni assolutamente sorprendente, però vissuta dal vivo, la vigilia, poteva fare immaginare comunque una prova di questo livello? Innanzitutto una vittoria importante, soprattutto per l'aspetto mentale, per l'aspetto di fiducia, per il gruppo, che era troppo importante e ritornare a fare punti e a fare punti importanti. È normale che non ci si poteva aspettare una vittoria così netta, che poi il campo è stata dura a prescindere dal risultato, però ero convinto che i ragazzi avrebbero fatto una grossa prestazione perché come sono entrato ho visto un gruppo veramente determinato, voglioso e coeso per raggiungere un obiettivo straimportante assolutamente da conquistare, che è la salvezza finale. Ma come può accadere che in quattro giorni si passi da una sconfitta piuttosto rovinosa con il Notaresco, squadra distratta che becca quattro gol e il Notaresco non è Real Madrid con tutto il rispetto, e poi se ne rifinino cinque di gol al Chieti, che alla vigilia di questo campionato era allineata tra le sicure protagoniste, anche se a sua volta se la stava passando male e adesso magari se la passa pure peggio. Certo, è normale che... questo è anche il bello del calcio, no? che tutte le partite è una storia a sé, ma io penso che la testa delle volte fa la differenza e le motivazioni, la testa, l'unione, la coesione può portare a superare degli ostacoli imprevedibili. Quindi a prescindere che comunque la sconfitta interna con il Notaresco veniva da un mese che la squadra non scendeva in campo, sai, comunque... Non è facile riacquistare subito il ritmo? Riacquistare subito il ritmo, soprattutto in una situazione dove magari i risultati venivano un pochino meno e sai, quindi può succedere, può succedere, ma non si è risolto nulla, nel senso che non abbiamo fatto nulla, abbiamo messo un piccolo mattoncino per quell'obiettivo che sarà duro, ma che tutti noi vogliamo raggiungere. Scorrono nel frattempo le immagini della gara di domenica che l'Alma ha approcciato con lo spirito giusto, si è subito notato che l'atteggiamento era costruttivo, ha sicuramente speculato su qualche disavventura difensiva del Chieti, lo ha fatto in particolare con Coulibaly che per sua stessa missione è riportato lì sull'esterno, forse nella condizione di sprigionare meglio il suo potenziale. Io come dicevo anche in questi giorni i suoi colleghi, ogni allenatore ha le proprie idee calcistiche, il proprio credo, ma come dicevo anche fine partita domenica, penso che io abbia inciso poco il merito di questa prestazione e anche della prestazione individuale di alcuni giocatori, ma soprattutto del collettivo, è stato merito dei ragazzi, della voglia, della determinazione e proprio della volontà di continuare a lottare, quindi mi hanno dimostrato e penso ha dimostrato tutto l'ambiente che è una squadra viva, una squadra vogliosa e queste sono le prerogative per centrare quell'obiettivo. Dicevamo delle scelte, difesa a quattro con Saponaro terzino destro e dall'altra parte alle grucci e questo tridente offensivo un po' anomalo perché c'era Gonzales che sì, formalmente era l'attaccante di sinistra, in realtà svariava. Sì, è normale che ha caratteristiche non proprio da esterno offensivo, però ha tanta qualità e penso che quando un giocatore ha la qualità che ha Gonzales può fare tutti i ruoli, soprattutto nel calcio moderno, quindi a prescindere dai singoli, ripeto, voglio dare forza a una cosa con cui credo, che è lo spirito di gruppo che ho visto quando sono entrato in quello spoglietoio e mi ha fatto, non sperare, perché io sono venuto qui per centrare l'obiettivo, però ti dà fiducia, dà fiducia anche quando fai le scelte, quando lavori, ho trovato un gruppo disponibile in tutto e questi comunque sono tutti i fattori che alla fine porteranno il loro contributo. Sull'integrità del gruppo si poteva però tranquillamente scommettere anche prima il fatto che si sia compattato anche di fronte alle difficoltà che ha dovuto attraversare non è sicuramente particolare, trascurabile. Andiamo a dare un'occhiata per renderci conto di una situazione che comunque resta decisamente precaria a quelli che sono stati i risultati dell'ultimo turno, il vasto Girardi che incalza l'alma da dietro, ha battuto il Riccione, e questo è un risultato se vogliamo sorprendente perché Riccione comunque veniva da un buon periodo e ha un potenziale di primo ordine. Lì dietro si registrano i passi falsi del Tivoli, sconfitto in casa peraltro dal Campobasso e della stessa Matese che è stata superata nettamente dal Sora. Per quel che riguarda invece il Termoli conferma la continuità dei risultati dell'ultimo periodo bloccando sullo 0-0 l'Avezzano. La classifica, e qui naturalmente le note dolenti perché comunque l'alma è a un punto dalla retrocessione diretta, retrocessione diretta che al momento si configurerebbe anche perché i punti di ritardo dalla quota salvezza sono 8. Insomma la rimonta appena iniziata. Quella parola non l'ho sentita, non la comprendo bene. Quindi, allora a parte gli scherzi, è un campionato equilibrato, ho visto tantissime partite quest'anno, non penso che ci sia squadre materasso se le vogliamo chiamare così, ho visto sempre squadre e partite molto equilibrate anche quando c'era magari testa a coda o quant'altro. Quindi soprattutto nel giorno di ritorno il campionato lo sappiamo che non rispecchia non rispecchia l'andamento dell'andata. Anche perché poi succede, scusami l'interruzione, che nella parte finale qualche squadra per motivazioni varie poi non si esprima più ai livelli del resto della stagione. Sì, magari sì, per aver perso magari gli obiettivi iniziali, ma poi anche perché i punti cominciano a pesare, cominciano ad essere stra-importanti, gli equilibri aumentano ancora di più e può cadere, nel senso che magari anche la Matese ha perso, possiamo dire, a livello di risultato, è stato un risultato pesante, ma ho visto la partita sicuramente non è stato così facile questo risultato da parte del Sora. come lo stesso Campobasso, può sembrare di aver vinto facile, ma la partita fino allo 0-0, finché non ha sbloccato Maldonato su punizione, che è la perla del giocatore, era una partita sull'equilibrio dove è stato messo in difficoltà il Campobasso. Quindi non ci sono partite facili, ma non c'è mai stato. Oggi nel calcio di oggi non esiste partite facili, per vincere partite ci vuole tanta attenzione, tanta concentrazione, tanto spirito e devi essere super attento a regalare il meno possibile. La salvezza passa ovviamente da tutte le partite, ma in particolare dagli scontri diretti. Qui l'Alma è chiamata a correggere un bilancio sin qui molto magro, perché in pratica non ha vinto un solo confronto diretto e di confronti diretti ce n'è uno in programma domani, appunto sul campo dell'Amatese, che è un campo decisamente atipico, sintetico di vecchia generazione, molto stretto e l'Amatese è un altro di quei misteri di questo campionato, perché l'organico non è così scarso e i risultati però non sono arrivati, nonostante anche un cambio di allenatore. Assolutamente. L'Amatese ha un organico importante, ha 3 o 4 giocatori che giocano la Liga da tanti anni, quindi ha uno staturo importante, giocatori che hanno fatto campionati anche importanti, quindi ogni annata ha la sua dinamica per tante motivazioni, quindi ci aspetterà una partita difficilissima, come hai detto tu, in un campo diverso, chiamiamolo così, perché comunque giochiamo in un sintetico di vecchia generazione. Questo implica anche qualche adeguamento sul modo di stare in campo? Sicuramente è un adeguamento mentale, scendere subito in campo e approcciare bene e non perdere tempo nell'adeguarsi al tipo di partite che si andrà a fare, quindi sicuramente l'atteggiamento e l'approccio è fondamentale in queste partite, ma come sempre noi domenica abbiamo avuto un approccio importante e dobbiamo mantenerlo perché molte partite si risolvono nei primi minuti, nei minuti finali, nei momenti quelli più delicati o all'inizio secondo tempo, quindi sono momenti di gara dove devi stare maggiormente attento, quindi si aspetta una partita difficile contro una squadra che sicuramente, sì la classifica dice che è ultima, ma come dicevamo prima i valori non sono da ultima in classifica, che non mollerà un centimetro fino all'ultimo secondo dell'ultima partita di campionato perché vogliono assolutamente cercare di salvarsi come lo vogliamo noi, quindi sarà una partita difficile, ma noi vogliamo dar continuità, soprattutto continuità per acquisire certezze, per acquisire un po' più di fiducia e per continuare a camminare verso quell'obiettivo. Ci si è a lungo soffermati in queste settimane sul deficit del reparto avanzato dopo la partenza di Tenkorang, a leggere l'ultima partita questa carenza non sembra così compromettente, 5 gol all'attivo, detto questo però l'emergenza adesso si sposta in difesa perché dei tre difensori titolari che l'alma a lungo schierato nell'arco della stagione non è disponibile neppure mezzo, come la mettiamo? La mettiamo che i ragazzi che comunque in queste, non solo domenica, in queste ultime settimane, che in queste settimane sono scesi in campo, penso che sono ragazzi validi, ragazzi di prospettiva, ragazzi che stanno dando tanto, si stanno applicando tanto, comunque ad esempio domani sarà squalificato, ma Mancini è comunque un ragazzo importante, molto più di un under possiamo dire, ma come lo sono gli altri che abbiamo, nel senso sono, veramente ho trovato un gruppo di ragazzi, di giovani che sembrano un pochino diversi dai giovani di oggi, quindi un po' più mentalizzati e questo sicuramente è merito anche delle persone che erano qui prima di me, dei miei colleghi prima di me che comunque hanno lavorato bene e soprattutto anche da loro che si stanno mettendo, hanno voglia di emergere, hanno voglia di confermarsi e questa comunque è un'arma in più, sia per loro che per tutta la squadra. L'ipotesi che si è fatta in queste ore è di arretrare Urbinati, questo significherebbe però una difesa largamente over con un centrocampo di conseguenza un po' più tenero, è una delle prospettive che stai valutando? Ma adesso vedremo, domani cercherò di mettere nelle condizioni ragazzi di stare più sereni, più tranquilli possibili, poi le scelte vanno fatte, ma adesso a prescindere da chi subentrerà o io penso che questa squadra, questo gruppo ha dei valori perché certe cose le percepisci anche in pochi giorni e quindi chi scenderà in campo farà il suo dovere alla grande. Abbiamo accennato alle ricadute negative che può aver avuto una sosta di 24 giorni assolutamente inusuale, adesso però si tratta di fare i conti con impegni estremamente ravvicinati, l'Alma ha giocato domenica, sarà di nuovo in campo domani, di nuovo domenica all'Aquila dopo aver recuperato con il Notaresco, quattro partite in dieci giorni, ci sono le basi anche fisiche a questo punto per uscire bene da questo Tour de Force? Ma innanzitutto partiamo che è una squadra molto giovane, quindi si ricopra in fretta anche a livello di testa, quindi si è più leggeri su questo, però è normale che le fatiche anche in questa parte della stagione vengono fuori perché accumuli, comunque è passata passate tre quarti del campionato, però stiamo lavorando anche con quest'ottica, nel senso magari di lavorare un po' più di qualità che di quantità per permettere a tutti di recuperare le forze, ma in Serie A giocano ogni due o tre giorni, quindi ormai è il calcio di oggi che porta a questo, è normale che in queste categorie succeda di meno, però sono ragazzi che hanno lavorato penso bene in questi mesi, ma io non vedo una squadra in difficoltà di ossigeno. Ti sei trovato proiettato su questa panchina, quella dell'Alma Juventus Fano, nel giro di poche ore e nell'imminenza di una partita dopo le dimissioni di Giovanni Cornacchini, è una chiamata che ti ha sorpreso, c'erano comunque dei rapporti con chi poi ti ha reclutato per farti assumere questa responsabilità? No, questi rapporti non ce n'erano, è una chiamata che comunque mi rende orgoglioso perché è una piazza importante e come ho detto quando sono arrivato ho anche un debito verso Fano che purtroppo 25 anni fa quando ero qua non era andata benissimo, è normale che non era responsabilità, non erano solo i miei, ma comunque... Anche perché i giocatori in quella nata lì ne passarono un'infinità? Tantissimi, a parte quello comunque è un'annata che poi certe annate ti segnano, ti lasciano qualcosa dentro e quindi spero di poter ripagare un pochino quel danno che subimmo 25 anni fa. Quindi, ripeto, è una piazza importante, essendo anche un marchigiano so la storia e l'importanza che ha Fano come squadra di calcio, quindi per me è un orgoglio e sono stato contento e sono super motivato perché, ripeto, allenare il Fano non è da tutti, quindi per me è un trampolino importante, è una piazza importante dove voglio far bene insieme alla squadra perché da solo non posso fare niente, però l'ho presa con molta determinazione perché, ripeto, è una società dove anche quando veni da giocatore ero molto orgoglioso perché è una società importante, è un blasone, quindi merita sicuramente di stare in certi palcosceni. E a proposito di storia, blasone prestigio, tu l'anno scorso sedevi sulla panchina della San Benedettese, le cose hanno preso una piega che tutti conosciamo e quindi quell'opportunità anche di crescere professionalmente in pratica è evaporata. Adesso un'altra opportunità dal punto di vista professionale per consolidare in qualche modo il tuo prospetto di allenatore, la vivi così? Sì, diciamo che io quando sono subentrato nello scorso gennaio era una situazione drammatica e forse sto usando un aggettivo anche troppo soft. Era veramente difficile perché c'erano problemi interni, problemi esterni, problemi con l'ambiente, problemi di tutti i generi. Siamo riusciti a portare in porto la nave con i ragazzi, ci siamo compattati contro tutti e tutto perché c'era un'intera città che non voleva che scendessimo in campo, però penso che abbiamo fatto il nostro dovere da professionisti e da gente che ama questo sport. Per me è stata una crescita importante, ha portato sicuramente tante cose in più nel mio bagaglio, è una piazza straordinaria e io essendo di là, diciamo, oramai San Benedettese di adozione, vivo quotidianamente il calcio a San Benedetto e so che ogni santo giorno si parla solo di San Benedettese, quindi per me è stata un'opportunità importante e comunque penso che anche questo abbia influito nella scelta di Fano, perché poi, ripeto, Fano è una piazza altrettanto importante e non da tutti, bisogna avere certe caratteristiche che magari un pochino agli addetti lavori ho dimostrato l'anno scorso, quindi per me è un altro passo importante per questo mestiere che vorrei fare, che vorrei fare, che oramai faccio da otto anni, però ancora sono alle prime armi, io mi chiamo così perché non c'è mai fine alla crescita e per me è un'altra occasione per dimostrare che magari il prossimo anno sarò una prima scelta, una seconda, quest'anno ero la terza, non qui a Fano nel senso in generale, comunque sono il terzo allenatore, come a San Benedetto l'anno scorso ero stato il terzo allenatore, vorrei magari guadagnare qualche posizione all'inizio campionato Scalare la classifica Esatto Cambio di allenatore, il secondo appunto di questa stagione, è arrivato dopo il cambio alla guida della società, che impressione ti ha fatto il presidente Guida? Ma innanzitutto lo ringrazio perché comunque non ci conoscevamo, magari qualcuno ha riferito del mio lavoro e di quello che ho fatto in questi anni, quindi ringrazio lui come proprietario del Fano Calcio per aver pensato a me, io penso che la società ha voglia e ha stimoli di crescere, è normale che ci sono delle difficoltà che stanno cercando comunque di risolvere e superare, come tutte le cose per, come dico, faccio sempre la battuta, per mia madre ci ha messo nove mesi, piano piano penso un passo alla volta riuscirà anche questa società, le prospettive ci sono, le idee ci sono, la volontà c'è, l'entusiasmo c'è, la credibilità va conquistata, come per me che è un allenatore, la proprietà sicuramente è normale che in questi anni, come, ecco faccio un po' l'esempio di San Benedetto, dove ogni proprietà per conquistare fiducia devono fare tanto e qui deve fare tanto anche questa proprietà perché poi le vicissitudini che si seguono di anno in anno porta anche a una mancanza di fiducia nei riguardi della proprietà, però da parte mia e da parte, ho visto nella società una società che sta cercando di muoversi in questa via, quindi. Grazie a Manolo e a Manoli, in bocca al lupo per tutto, noi vi aspettiamo fra qualche istante. Ha preso dunque la strada di Palmi la Coppa Italia di A3 di pallavolo, nella finalissima che si è giocata in un Palace Allende stracolmo, la squadra calabrese ha fatto vedere tutti i propri numeri e anche qualcosa in più, al cospetto di una Smart System che non è riuscita invece a bissare la prova fornita in semifinale di assoluto livello che aveva consentito di superare il gabbiano Mantua, capolista incontrastato del girone centro-settentrionale. Possono partire le immagini di questa sfida appassionante in cui la Smart System non è riuscita a fare al meglio le cose che specie in casa le riescono, in particolare la battuta, non ha seminato il panico nella ricezione calabrese che è riuscita a tenere costantemente la palla vicino rete, anche in attacco, qualche difficoltà di troppo per la formazione virtussina che non ha potuto giovarsi più di tanto neppure del muro al cospetto di un attacco avversario trascinato da uno Stabrava, ex di Turmo assolutamente debordante, ma ha fatto pentole e coperchi anche l'attaccante Corrado. Palmi si è confermata nelle circostanze a squadra che in serata può battere chiunque, Smart System che comunque specie, rileggendo l'intero andamento di questa Final Four di Coppa Italia, può riaffermare le proprie ambizioni in chiave campionato perché ovviamente resta quello l'obiettivo prioritario, vale a dire la promozione in A2, bisognerà afferrare questa opportunità passando dai playoff e ai playoff, bisognerà arrivare nella migliore posizione possibile dopo il turno di riposo di domenica prossima, due le partite a disposizione della squadra di Mastrangelo, la trasferta di Marcianise contro una formazione che lotta per non retrocedere, poi lo scontro diretto in casa con San Giustino, necessari 6 punti se si vuole ambire ad una posizione che tra l'altro consenta di evitare lo spauracchio palmi nel primo turno di playoff. Assistiamo anche alla premiazione dei giocatori virtussini che sono stati sostenuti dal primo all'ultimo scambio da un pubblico entusiasta, da questo punto di vista confermata la validità dell'impianto organizzativo della società virtussina ed è questo uno dei temi che abbiamo toccato con il presidente Cenerilli sull'andamento della finale, dirà la sua. Anche l'allenatore Mastrangelo. L'abbiamo preparata bene, l'abbiamo giocata, abbiamo sfiorato veramente di portarla almeno un po' più per le lunghe e loro sono stati bravi, sono stati bravi, inutile negare, noi ce l'abbiamo messa tutta, è chiaro c'è un po' di delusione di fronte ad un pubblico incredibile, erano anni che non si vedeva il palazzetto così pieno a Fano, fortunatamente in questi due anni abbiamo veramente fatto delle cose pazzesche e la gente ci segue davvero da vicino. Stasera è andata così. Ci ha penalizzato il punto appunto del primo set, è lì che dobbiamo riflettere un attimo e pensare a quel momento lì. In nove giorni abbiamo giocato quattro partite con le migliori squadre, probabilmente un po' meno modica, ma trasferta, lunga, siamo tornati, abbiamo viaggiato, poi abbiamo avuto il derby, abbiamo sprecato tante energie nervose, fisiche e poi sappiamo che Palmi comunque è una squadra fortissima che oggi, oggi, oggi è stata bravissima, sono stati bravi perché ci sono venuti fuori dalle difficoltà. E ci dedichiamo anche in questa puntata di Sportissimo all'Atletica Leggera, l'abbiamo fatto la settimana scorsa ospitando i fratelli Paglierini, oggi invece abbiamo il piacere di accogliere un atleta che ha qualche anno in più, ma che si sta facendo ugualmente onore nelle pedane italiane e anche in quelle di tutto il mondo, il campione master Giuliano Costantini, buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Allora, Giuliano Costantini è un signore che sta per compiere 75 anni e che ha una storia, direi molto curiosa da un certo punto di vista, perché all'Atletica si è dedicato da giovanissimo con brillantissimi risultati, dopodiché ha lasciato perdere per una ventina d'anni e poi ha ripreso a saltare, perché poi la sua disciplina è il salto triplo. Partiamo dall'inizio. Costantini, 17 anni, sulle orme del fratello comincia a fare atletica leggera, cosa succede? Prestazioni improvvisamente enormi, pur non sapendo neanche saltare, quindi Cusurbino mi scrive, mi fa entrare tra i suoi atleti, poi mi manda ai campionati italiani, di quella volta, sto parlando di 50 anni fa, adesso ho 75 anni, ne avevo 16. Campionati italiani allievi, quindi? Sì, allievi, e poi ho smesso perché abitando a Sant'Ippolito, praticamente 50 anni fa, andare a Urbino voleva dire prendere una prima corriera da Sant'Ippolito a Fossombrone, Baldelli, da Fossombrone a Urbino, Bucci, un'altra corriera, e poi da Urbino andare al campo sportivo un altro mezzo, praticamente era impossibile, ho smesso e ho ripreso a 38 anni circa, spinto da mio fratello e da quella volta non l'ho più smesso, sono ormai 38, ne ho 75, sono ormai 40 anni quasi, 37 e 38 anni che gareggio. Il talento per questa disciplina, tra l'altro complesso come salto triplo, era emersa da subito perché a quell'epoca il Costantini saltatore aveva ottenuto dei risultati che avevano pochi uguali in Italia. Sì, la seconda misura in Italia è appena dei sedicenni, poi... E senza un'adeguata preparazione? No, mi hanno detto si salta su quella gamba, poi stacchi con una gamba, ricardi su quella e poi in quell'altra, erano proprio i primi tempi in cui il triplo veniva anche proposto, però ero scattante, ero elastico, cosa che ancora riesco ad essere elastico, e continuo, la passione è infinita. Ecco, cosa ha spinto vent'anni dopo a riavvicinarsi a questo mondo? Un fratello che gareggiava nel lancio del giavellotto, nel disco, un anno più di me, è morto quattro anni fa, ma con lui ho diviso tutte, condiviso tutte le attività sportive, ci sfidavamo tra noi due a livello di disco, di lancio del peso e anche di corse, insomma, è stato lui la molla, poi dopo, essendo un appassionato anche io, non l'ho più lasciato e ogni anno vado alle gare. I risultati sono subito tornati nel momento in cui è ripresa questa avventura. Mi ricordo, sì, andavo a Cesenatico in quegli anni, era la città che organizzava quasi ogni anno la manifestazione annuale, estiva, perché esiste anche la stagione invernale indoor, come questa ultima che abbiamo appena fatto, e io dopo sono sempre intervenuto, sono partecipato praticamente a tutte. E da quegli anni 80 ad oggi non c'è stata più soluzione di continuità? No, sempre, non ho saltato un anno, non ricordo di aver saltato un anno, fortunatamente, devo dire. E i risultati sono continuati ad affluire? Sì, perché... Vediamo tra l'altro le immagini della prestazione più recente del nostro Costantini ai campionati italiani indoor che si sono svolti ad Ancona e qui lo vediamo in una prova che è appunto quella sua del triplo e vediamo che a 75 anni davvero è ammirevole l'elasticità con cui esegue il gesto. Sì, c'è da dire che l'allenamento è serio perché devo... Ma senza strafare, corsa, camminata veloce, balzi su una gamba, balzi sull'altra, corse rapide di 30 metri, salti sulla corda, un migliaio di salti al giorno sulla corda, o presunta corda in modo tale da mantenere l'elasticità, questo è quanto faccio. Anche perché il problema di raggiungere un impianto resta, perché è Sanchi Polito, è una metà strada, tra Fano e Dubino, e tra l'altro a Fano in questo momento la pista non è più disponibile. Esattamente, venivo a Fano ma adesso in questo momento ci sono i lavori in corso, pertanto. Costantini, tesserato per l'Atletica Fossombrone dove è un po' il factotum, peraltro, no? Mi trovo invecchiato però, molto, devo dire. Dicevo che all'interno dell'Atletica Fossombrone svolge più di una mansione, no? Sì, sono a Fossombrone con il professor Bacchiocchi che ha la società da anni e io sono, diciamo, l'Atletica di punta. Abbiamo detto di imprese che meritano un'adeguata sottolineatura perché negli anni Costantini si è tolto la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio agli europei e soprattutto sul gradino più alto del podio ai mondiali. Ricostruiamo queste belle avventure. Ho cominciato ad andare in giro per l'Europa e quindi per il mondo anche dopo l'attività professionale. Ero insegnante, in pensione, ho cominciato, sono potuto anche andare poi rispettando la data, la disponibilità. Ho vinto nel 2014 il salto triplo in Turchia a Izmir, o la nostra Smirne. Secondo nel lungo, con cinque metri, primo nel triplo. Vedo l'immagine dove cantavo insieme a tutta la gente che c'era l'inno italiano. Diciamo che la voglia di cantare l'inno è stata la molla principale perché... L'obiettivo è quello, non tanto la medaglia ma salire sul podio per intorare l'inno. italiano e cantarlo... Mette addosso una grande emozione. Si emozionavano tutti, anche la gente che era lì, come in questo caso. Vincevamo delle imprese a livello europeo. Sì, ho vinto in Turchia. A testare dalle medaglie che Costantini ha portato nel nostro studio. Ho vinto tre volte i campionati d'Europa, uno in Turchia nel 2014, in Italia nel 2016, e sempre in Italia nel lungo però nel 2019. E poi la scalata al mondo. E poi la scalata al mondo in Finlandia, questa è la medaglia d'oro. E in che anno siamo? Nel 22, quindi... Impresa recentissima. Sono il campione in carica. Fra pochi mesi ci sarà la nuova edizione in Svezia. Ecco appunto. Conto di partecipare, spero. I traguardi da tagliare non finiscono mai. Non finiscono mai. Ce n'è uno imminente. In estate si gariggerà a Götebori, pare si dica così, in Svezia e le prospettive mi pare siano allettanti. Se faccio la misura... Qui in Ancona, dieci giorni fa, ho fatto una misura che è il record del mondo. Dovrà essere avallata e ratificata. Parliamo di? Parliamo di 10 metri e 13 centimetri, quindi con tre passi, diciamo, con il salto triplo. E attualmente a 75 anni è il record del mondo. Invece quello che viene mostrato adesso è la vittoria ai mondiali in Finlandia con questa medaglia presa. 10 e 12 per vincere. Dieci giorni fa ho fatto 10 e 13 con un anno in più, due anni in più. Anche perché chiaramente trascorrendo gli anni e passando di categoria poi la concorrenza fatalmente diminuisce. Diminuisce e io ringiovanisco. Non so se ho questo... Questo processo inverso. Credo però. E' solo... Ecco, mi pare che comunque da certi gesti emergano chiaramente le qualità innate, al di là dell'allenamento che ovviamente deve accompagnare questo impegno. Mi pare, insomma, madre natura abbia fatto bene il suo lavoro. Spero di sì, penso di sì. Qui con la divisa dell'Italia ho vinto gli europei del salto in lungo in questa indoor. Che mondo è quello dei master dell'atletica? È un mondo in cui primeggia la componente della competitività oppure c'è la voglia di partecipare e basta? Allora, l'uno e l'altro. Ma a certi livelli si combatte proprio per... Ma in modo amichevole, perché poi prima a far festa sono gli stessi avversari che ti salutano. Sì, mi diceva che tra l'altro dopo questo risultato di Ancona sono arrivate le congratulazioni di un saltatore svedese. Sì, un saltatore svedese si è congratulato perché ho fatto più di lui e lui aveva già preso il record del mondo, ma io l'ho superato e lui si è congratulato. Come dire, ci conosciamo e... Grande fair play, grande sportività. Sì, intanto non dobbiamo dimostrare niente se non quegli anni che passano, è solo un modo per passarli al meglio. Dicevamo di questo appuntamento con i mondiali svedesi della prossima estate, mondiali svedesi che avranno un partecipante illustre, perché Ingemar Stemmer, che è il campione di sci, che tra l'altro si sta tenendo in forma con esercizi che qualcuno può ammirare in rete assolutamente straordinari per uno della sua età, gareggerà ai mondiali master. Sì, nel salto con l'asta, credo negli M65, ma ci sono altri di grido, è gente che andava all'Olimpiadi, so, 50 anni fa, però con la passione ancora addosso partecipano. È anche molto stimolante confrontarsi con atleti che hanno gareggiato i massimi livelli. Esatto, e questo è un aspetto, qui è quando ho vinto in Turchia il salto triplo, nel 2014, insieme a un russo e un… A due russi. Sì, a due russi, sì. Dicevamo appunto di quella presenza di atleti che hanno gareggiato nelle massime competizioni. Sì, con i nomi, basta leggere poi i nomi, e qui sono con la società. Quindi ci si possono prendere anche delle rivincite che magari il corso degli eventi nella vita ha impedito di ottenere. Sì, esatto, e c'è questa sfida continua nel senso però positivo. E anche la sfida con se stessi. Con se stessi, sì, anche praticamente valuti il tempo che passa, lo misuri. Allora, Costantini di Sant'Ippolito, e di Sant'Ippolito era anche il campione master per eccellenza Ottaviani. Ora, uno potrebbe pensare, Costantini ha come riferimento Ottaviani, sicuramente nell'ambito temporale sì, ma in realtà Ottaviani si era avvicinato all'atletica appassionandosi alle vicende dei fratelli Costantini. Era un grande amico nostro, perché metto mio fratello insieme a me, anche se non c'è più. Nostro padre era molto amico di Ottaviani. Ottaviani veniva a vederci saltare, ci faceva le foto, faceva anche il filmino. Al giorno, quando aveva lui sui 75 anni... Perché ricordiamo che Ottaviani si avvicinò all'atletica in età avanzatissima, non aveva mai praticato. Mio fratello gli ha detto, metta un paio di scarpe da ginnastica ed entri anche lei, per tutta l'età vale. È nato Ottaviani, che poi a 100 anni ancora si muoveva con Garbo. Ovviamente strappando tutta una serie di record, perché a quell'età la concorrenza fatalmente viene... Esatto, quindi è di Stantipo, abitiamo a 50 metri, abitavamo a 50 metri di distanza, però è un paesino di 600 persone. Credo che Costantini sia la persona ideale per lanciare un messaggio, cioè quello di continuare a fare sport senza porsi limiti temporali, e anche quello di appassionarsi ad uno sport come l'atletica leggera, che vive di grande impegno e di grande passione, perché si tratta di uno sport individuale, non c'è la dimensione del gioco e quindi questo fatalmente allontana qualcuno. Hai toccato proprio i tasti giusti, tra l'altro io ad esempio faccio con serietà, con impegno e con divertimento anche il gioco della boccia alla lunga. Per tutto l'inverno riesco a mantenermi in forma, perché poi si tratta di correre e scagliare un oggetto, una boccia, che mi permette di correre e di... E tra l'altro nell'ambito dell'atletica leggera svaria in altre discipline anche. È molto allenante per quanto riguarda la mia attività poi sportiva principale. Comunque nella boccia alla lunga, perché Pesero nel settore della boccia alla lunga è all'avanguardia, quindi ci sono squadre di Serie A, Serie B, io gioco per il Merlot Team ad esempio, ed è una squadra qui di Fano, del Fanese. Insomma, questo invito a fare sport e a farlo senza farsi condizionare la carta di identità. Forse è l'invito più semplice ma anche il più efficace, perché c'è solo da prendere le cose buone. E si resta giovane. È un momento in cui ti rilassi, sei contento, si resta giovane, tra virgolette, perlomeno. Allora, Costantini, diamo un appuntamento, quello di rivederci alla fine dell'estate, nell'autunno, per festeggiare. Ho trovato interessante lo studio, quindi conto di ritornarci. Qualche altra impresa memorabile, appunto fra i Master 75, dei quali è entrato a far parte, o sta entrando a far parte, perché il compianno ricorre a luglio. Sì, per il mondo devo, in agosto sarò 75 anni conclamato. A tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Con tutti i crismi. Ecco. Grazie a Giuliano Costantini, campione Master di Atletica Leggera. Noi torniamo fra qualche attimo. Spazio ora al Judo, uno spazio che verrà riempito dagli ospiti dell'Accademia Judo Fano, in particolare il responsabile della comunicazione Luca Dazzari. Buonasera e benvenuto. E da un atleta dell'Accademia Judo Fano, Antonio Russo, buonasera e benvenuto anche a lui. Accademia Judo Fano, raccontiamone un po' la parabola, quando è nata questa esperienza Luca e come, qual è stata la fonte di ispirazione? Allora, Accademia Judo Fano nasce nel febbraio del 2021, ma diciamo figlia dell'esperienza del Sakura Judo Fano Club, del Maestro dei Sancti, di cui anche io sono stato allievo, ma soprattutto ne sono stati allievi il presidente dell'Accademia, Umberto Battista, e l'altro maestro dell'Accademia, Enrico Ridolfi. E da quell'esperienza, prendendo le volontà del maestro, hanno deciso, insomma, di fondare questa Accademia di Judo, così gli piace nominarla. Nata proprio, cioè adesso noi svolgiamo le nostre lezioni, proprio dove le svolgeva il nostro maestro Umberto Battista, quando aveva cinque anni, per cui è ritornato un po' alla radice. E parliamo di quale sito? Ah, siamo a Sant'Orso, siamo a Sant'Orso, nell'oratorio di Sant'Orso, sotto la chiesa, per intenderci, proprio nel centro del quartiere, vicino al centro commerciale, una zona molto viva e molto bella, insomma, ci fa piacere essere lì. Quindi non è stato lasciato cadere questo testimone che era stato, in qualche modo, lanciato dal maestro De Santis, all'interno di un quartiere, appunto, di una frazione come quella di Sant'Orso, molto popolosa, di cui costituite, a tutti gli effetti, un punto di riferimento importante. Certo, sì, sì, no, il maestro ha proprio scelto questo sito con questo intento, cioè con quello di essere un punto di riferimento per il quartiere e dal quartiere, per esserlo per tutta la città. Quindi di estendere quella del judo, che è prima di tutto una cultura votata al rispetto e che, appunto, formasse per la zona, il quartiere di Sant'Orso, un centro di riferimento. Accademia Judo, dunque, che è una realtà giovane, perché parliamo di poco più di tre anni, ma che in questi anni, appunto, ha saputo sviluppare un'attività, credo, ad ampio spettro. Su quanti tesserati potete contare al momento e da che età a che età vanno questi tesserati? Beh, possiamo contare su un centinaio di tesserati all'incirca e vanno, adesso Antonio mi ricorderà bene, però l'età va dai 4 fino ai 50 e passa anni, sicuramente. Tutti accomunati dalla stessa passione, quella passione che ha mosso anche Antonio Russo a praticare Judo. Dove è nato questo istinto che ti ha portato? Perché il Judo? Ecco, esattamente. Beh, parto col dire che sempre stato affascinato dagli sporti di combattimento, nasco, non qui, nasco a Napoli, quindi trasferito a Fano, mia mamma faceva karate, ha trovato una palestra di Judo. C'era l'habitat, l'humus. Si respirava, sì. E mi ha buttato in pasto ai leoni nel circo del Judo, come posso chiamarlo io. Perché circo? Perché è una realtà stupenda. Quindi ho iniziato a 5 anni, un'altra palestra di Fano e poi mi sono aggregato all'accademia quando appunto è stata aperta. Perché il Judo? Perché, l'ho capito con gli anni, il Judo non è solo uno sport, ma è proprio uno stile di vita il Judo. Il Judo ti apre tantissime porte sia sulla tua persona che possa essere anche appunto a livello agonistico, ma proprio a livello di vita. Tu vivi le cose e le paragoni tutte al Judo. Io vivo e paragono tutto quello che faccio al Judo. Quindi mi ha trasmesso valori di altissimo grado che non sarei stato in grado di apprendere senza fare questo sport. Come ad esempio il rispetto per gli altri, il rispetto per se stessi prima di tutto. Anche il tastare i propri confini, i propri limiti. Sono tutte tematiche che il nostro commissario Umberto Battista ci tiene a farci capire e ti rende una persona migliore sia nella vita ma anche con te stesso. Sei molto più consapevole di quello che sei. Sport individuale, il Judo però mi pare emerga anche dalle immagini che possiamo vedere all'interno di quest'Accademia Judo un grande spirito di gruppo. È così? Sì, è decisamente così. È uno dei principi del Judo. Uno dei principi del Judo è proprio amicizia e mutua prosperità. Già per il fondatore del Judo, che è Gigoro Kano, è uno dei tasselli fondamentali del Judo. Questa volontà è passata al Maestro De Sanctis, è arrivata a Umberto Battista Enrico Ridolfi e adesso sta passando a noi, a tutti noi che lo pratichiamo e anche alle famiglie che portano i loro bambini e bambine da noi. E in effetti questo atteggiamento cameratesco, soprattutto in occasione di trasferte, mi pare coinvolga anche proprio i genitori. Sì, sì, certamente. Poi Antonio che ha fatto decisamente più gara di me ve lo può confermare ma sì, portando i bambini e vediamo anche i genitori partecipi che si emozionano nel vedere i loro figli e figlie affrontare seriamente e con compassione questa pratica. Abbiamo anche dei video di una delle competizioni più recenti che sono state affrontate, mi pare che si siano disputate a Camerino e i protagonisti proprio sono una serie di giovanissimi. Ecco, ci si avvicina al Judo in età addirittura prescolare. Come vi approcciate al bambino e alla bambina che vengono a fare Judo? Beh, attuiamo innanzitutto una didattica generale, infatti il Judo è la base di tutti gli sport. Infatti non si insegna direttamente il Judo, ma la prima cosa che si insegna nel Judo è cadere, non proiettare come molti possano pensare. Ad esempio un buon istruttore come i nostri maestri che sono entrambi laureati in scienze motorie, sono dottori in scienze motorie, hanno anche le capacità per dare il senso anche figurato magari delle capacità condizionali e coordinative di un bambino. Quindi non è imparo Judo, imparo le cose basilari e gli schemi basilari per stare in piedi e poi ampliare il mio bagaglio personale. Quindi non è solo un lavoro di faccio, picchio eccetera. Quello arriva, ma arriva con l'educazione e c'è tutta una base molto studiata dietro. Ovviamente nel Judo manca la dimensione prettamente ludica, non è che si prende un pallone e si gioca con quello. Allora quali tasti andate a toccare? A me piace chiamarlo il pigiama, la mia seconda pelle, il Judo oggi. Quando ne parlo mi emoziono anche perché come sono cresciuto quando ero piccolo ed è appunto una divisa fatta di cotone, 100% cotone ed è anche pesante. Quindi legata da una cintura che definisce il tuo grado di avanzamento nel Judo e niente. Questo è tutto quello che usiamo noi per fare il Judo in realtà. Con una materassina che si chiama Tatami che appunto è morbida, che facilita le proiezioni, aiuta a non farci male e niente. Quindi è questo quello con cui noi ci apprezziamo. Abbiamo detto della metodica che viene attuata nei confronti di chi si avvicina al Judo, ma Antonio Russo chiaramente ha fatto il suo percorso e ha ottenuto anche dei risultati brillanti. Vogliamo fare un compendio di questi risultati. Certo. L'anno scorso ad esempio ho mancato per pochissimo la finale all'oro ai campionati nazionali universitari, che poi ho mancato anche la finale al terzo posto, errori tecnici. Però dagli errori, è una cosa che studiamo anche qui, anche nella nostra palestra, dagli errori si parte e si fa tanto. Perché dagli errori si impara tanto. Magari da una vittoria non si può imparare nulla, invece dall'errore acquisisci competenze e studi quell'errore per non rifargli un futuro. Quali sono i tuoi punti di forza e magari i punti dove ancora devi migliorare? Il mio maestro mi chiama, che sono un killer, un killer del Tatami, ovvero che sono molto istintivo. Metto il mio inconscio sul Tatami e parla da sé. Forse i... Questo ti renderà imprevedibile. Esatto. Agli occhi dell'avversario. Può essere anche una medaglia a doppia faccia, perché puoi essere istintivo, ma molte volte serve anche la tattica e stiamo lavorando anche su quella. Quindi si punta sempre a migliorarsi e a fare di più. La tua categoria? Io faccio 66 chili, che va dai 60 ai 66 chili, sono un senior, quindi sono un po' vecchietto, che va dai 21 ai 31 anni. Tuo calendario di impegni di qui ai prossimi mesi anche, magari? Di me, magari anche, esatto, dei miei colleghi, come mi piace chiamarli, perché ho anche mio fratello e mia sorella e l'altro mio fratellino che fanno judo. E di famiglia. Immagino di cosa si parli a cena. Sì, esatto, parliamo solo di quello. Quindi i prossimi obiettivi, sicuramente un'altra volta il campionato italiano universitario, dove puntiamo a far bene, data l'amarezza dell'anno scorso, e poi abbiamo la Coppa Italia e il campionato italiano assoluto. Quindi ci diamo da fare, insomma. Chiaramente uno sport dilettantistico, il judo, con un impianto, abbiamo detto, collocato in ambito oratoriale, sport dilettantistico che deve affrontare dei problemi, ci sono comunque dei costi, l'impianto magari non è sufficiente per tutte le esigenze, e avete l'ambizione di allargarvi ulteriormente. Come si conciliano questi diversi aspetti, Luca? Beh, nel senso che no, ci ritroviamo con la problematica che ci arrivano sempre più richieste di persone che sono venute a sapere, insomma, di quello che stiamo facendo attualmente in accademia, e quindi, per dirla proprio in modo basilare, tra un po' non ci stiamo più, perché il tatame... Una questione fisica. Per una questione fisica. Esatto. E quindi, intanto si pensa di ampliare, proprio creando nuovi, anche nuovi corsi all'interno, i maestri, soprattutto il maestro Umberto, vuole creare un progetto, o il detto cosiddetto progetto olimpico, e quindi per gli agonisti, per questi giovanissimi agonisti, il cui obiettivo è portare degli atleti in nazionale e da lì alle Olimpiadi, cosa che sembra grande e lo è, ma non impossibile, e anche perché, insomma, entrambi i maestri sono stati convocati in nazionale e Umberto Battista è stato nel corpo di giudo dell'esercito e quindi, già, quindi istituire nuovi corsi e, insomma, poi in realtà diciamo che siamo anche grati, insomma, del luogo in cui siamo, abbiamo detto anche... Un valore, come dicevamo, anche simbolico. E' emotivo, simbolico, sia per il passato, ma anche per quello che l'Accademia di Judo vuole fare attualmente nel quartiere di Sant'Orso e per la città di Fano. Abbiamo sentito parlare di Olimpia, di questa parolina, quali emozioni ti suscita? Sicuramente è un sogno di tutti i bambini che vengono a Judo e è un sogno in grande, ma è sempre tastabile, però il mio obiettivo... Un passo alla volta. Un passo alla volta. Il mio obiettivo però non è quello, è tanto più il formare, lavorare con i ragazzi, mi piace molto lavorare con i ragazzi, con il gruppo di agonisti, proprio fare l'agonista, è proprio un mestiere. Quindi poi non faccio solo quello nella vita, faccio anche l'università, sono quasi laureato in scienze motorie, quindi puntiamo su questo. Il mio destino è cavalcato sull'onda dello sport. Hai scelto un corso universitario affine a quello che stai facendo. Esatto, assolutamente, assolutamente. Sempre stato convinto di questo, quindi... Poi mi piace il valore che il mio maestro vuole dare, anche facendo tanti progetti, magari sul sport benessere e salute mentale, che sono dei progetti che il mio maestro, anche a livello mondiale, ha portato in tutto il mondo. E sappiamo di Battista, molto impegnato sul fronte anche della disabilità. Esatto, quindi l'inclusione è proprio il fulcro della nostra palestra. Noi vogliamo che tutti possano far giudo, lo possono far bene con persone competenti, ma che si possono divertire, perché lo scopo del nostro sport non è soltanto proiettare l'avversario, ma proprio divertirsi con il proprio avversario. Come dovrebbe essere per tutti gli sport. Esatto. Grazie, Luca Tazzari, responsabile della comunicazione e tanto altro. dell'Accademia Giudofano, Antonio Russo, ugualmente lo ringraziamo, anche lui atleta, ma anche tanto altro dell'Accademia Giudofano, così come ringraziamo come sempre anche voi per averci seguito. Appuntamento a martedì prossimo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS